Dopo la sconfitta con il Sud Tirol in trasferta, il Modena torna al Braglia per sfidare il Cesena nel derby Emiliano-Romagnolo valido per la 32esima giornata del campionato di Serie C, girone B. Un saluto dal vostro salvo fratello, benvenuti al Braglia. Mattioli riceve sulla destra, affrontato da Favale, ancora sul destro Mattioli, poi prova il traversone di sinistro, stacca Pierini, palla fuori. Corra di super il cerchio di centrocampo, avanza indisturbato, prova la conclusione, palla sul fondo di un soffio. Caturano gestisce il pallone sulla destra, poi prova a servire Russini che mette il centro per Bortolussi che scavalca Gagno, traversa del Cesena, lontana Castiglia. Bortolussi sponda per Di Gennaro, va a terra l'attaccante, ma prosegue l'azione ancora Di Gennaro, verso Caturano, controlla calcia, facile per Gagno. Pierini da verso Castiglia che allarga bene, ancora per Pierini che prova il traverso, ne stacca Tulisi, para Nardi, il pallone resta lì! Nardi salva tutto, incredibile parata su Tulisi da pochi passi. Collocolo verso Bortolussi che serve, Caturano, Caturano si gira in aria, Gagno, respinge con i piedi allontana. Parte Corradi, arriva Castiglia che si coordina! Grandere spinta di Nardi, poi Corradi in fuorigioco. Russini recupera il pallone, serve, collocolo, Gagno! Gran parata in tuffo, conduce Di Gennaro la transizione, serve Caturano che va a terra il pallone, buono per Bortolussi. Bortolussi calcia, supera Gagno, poi Di Gennaro in sacca, ma c'è fuorigioco. Borello riceve, poi vede e serve sulla destra, collocolo contro la mette al centro, stacca Sorrentino, poi arriva Bortolussi, palo, incredibile! Allontana per Greffi, la mette giù Sorrentino, calcia tra le braccia di Gagno. Prolunga Sorrentino di testa per Bortolussi, Bortolussi scivola, Mattioli Bortolussi calcia, murato da per Greffi! Mattioli la mette al centro, la tocca, Spagnoli scivola a lungo, il pallone per Corradi, Corradi! 1-0 Modena al 91esimo! Il mancino di Mattiaco Corradi al primo gol stagionale con i gialli, avanti il Modena al 91esimo! Allontana Zaro, ma finisce qui, triplice fischio, il Modena torna al successo, 17esimo successo stagionale, i gialli salgono a quota 57, si proiettano verso l'impegno di sabato prossimo contro la Fermana. Allontana Zaro, ma finisce qui!